E' tutto pronto per l'edizione 2019 della Coppa Silla, la storica gara automobilistica di velocità di montagna che vedrà come tradizione vuole ai nastri di partenza i più forti piloti di questa specialità darsi battaglia. Il 2, il 3 e il 4 agosto riparte la Coppa Silla con la sua 39esima edizione, una gara storica che nasce addirittura prima dell'Automobile Club stesso, una gara che è entrata ormai nel cuore degli sportivi non solo cosentini e calabresi ma nazionali. E' un appuntamento importante che non si riduce solo ad un aspetto strettamente sportivo ma ha una connotazione culturale e turistica perché si muovono intere famiglie ad assistere a questo evento che comunque ha una forte natura sportiva e competitiva. Quest'anno ancora di più in quanto la gara stessa è stata inserita nel calendario del TVM, il trofeo italiano di velocità in montagna, quindi vedrà un numero di partecipanti maggiore rispetto agli anni precedenti. E' importante ricordare che per tutti gli ospiti che parteciperanno alla competizione, quindi i piloti che provengono da regioni diverse dalla nostra, ci saranno delle agevolazioni dal punto di vista dell'iscrizione economiche e le stesse agevolazioni, seppur con modi diversi, verranno fatti ai piloti di casa che storicamente partecipano col cuore a questa manifestazione che esendono loro. Le iscrizioni si chiuderanno giorno 29 luglio, prossimo 21, e giorno 31 alle ore 17 sono dietro di invitarvi a partecipare alla conferenza stampa che si terrà nei locali dell'Automobile Club di Cosenza in Vialdomoro.